Sono Emanuele Cefalo, fondatore di SipriFit e primo fleet coach in Italia. Da oltre 15 anni mi occupo di fleet management e ho gestito oltre 15.000 veicoli, accompagnando imprenditori e manager nel miglioramento della gestione della propria flotta. Ci rivolgiamo infatti agli imprenditori e manager ed a differenza di altre realtà che vengono semplicemente hardware, prodotti, solitamente attaccati alla localizzazione o alla gestione della sicurezza, noi abbiamo creato un metodo, il metodo Sipri, un metodo semplice, intuitivo, pratico, longevo ed innovativo, attraverso il quale con la composizione delle principali variabili che maggiormente incidono sulla gestione della flotta, portiamo l'azienda ad ottenere risultati aumentando la gestione della propria flotta, quindi il miglioramento, l'efficienza delle risorse a disposizione, i risultati di redditività in termini di molle, riducendo al contempo i costi della produzione, i rischi dell'attività strategico-operativa e il tempo medio delle risorse impiegate.